Buongiorno a tutti e buona domenica, questa notizia mi lascia abbasito, come fa la gente? Io veramente penso che la gente non ha più ritegno, sarà una situazione grave quella che stiamo vivendo, ma che la gente si butti al calcio così come l'oppio del popolo, guardate la prima notizia dell'ANSA, Liverpool K.O. vince la Champions, questi cazzi non ce li mettiamo, caos fuori dallo stadio, 68 arresti, 238 feriti, uno si fa arrestare per una squadra in calcio, ma la cosa sotto è ancora più bella, la finale è iniziata con oltre mezz'ora di ritardo per ferugli dovuti a biglietti falsi, vi sta bene, avrete pagato 300 euro e vi hanno pure fregato, vi sta bene perché siete degli allocchi, allocchi e ci cascate, magari avete voluto risparmiare, avete preso dei biglietti a 20 euro credendo di fare i furbi e vi hanno truffato, vi sta bene perché siete un popolo che non merita niente ragazzi, niente e questo non è l'italiano, sono inglesi e spagnoli ma tutto il mondo è paese, io sono schifato, con i problemi che abbiamo pensano al calcio.